Buon pomeriggio a tutti e benvenuti in Alma Social TV, il training broadcast di Alma Laboris Business School. Sono Marco Stile, faccio parte dell'area comunicazione di Alma Laboris, sono lieto di essere qui con voi per introdurvi verso l'evento formativo gratuito a cui state per assistere. Dandovi ancora un benvenuto caloroso su questa piattaforma di trasmissione di contenuti online, vi ricordiamo che ci troviamo nella sezione Enneway Master, quella che contiene degli eventi dedicati all'approfondimento sulle tematiche centrali nei master di alta formazione della Business School. Oggi si parla di gestione di progetti, si parla degli approcci metodologici più utilizzati nello sviluppo dei progetti. Un workshop che mira a far comprendere le differenze tra le diverse tipologie di Project Management, Predictive, Agile e Hybrid. Lo faremo con il dottor Luigi Punzo, col piacere di introdurli. Uno dei docenti che compongono la facoltà del nostro master di alta formazione in Project Management. Si tratta di un percorso dal carattere estremamente pratico, executive, in cui c'è un programma didattico che annovera anche il modulo di cui si occupa il dottor Punzo. Il nostro docente e consulente in ambito Project Management e Change Management ha una pluriannale esperienza nella progettazione e nei delivery delle soluzioni collaborative. Si occupa della realizzazione dei progetti di intelligenza artificiale applicata alla gestione dei documenti. Abbiamo come finalità in questo pomeriggio sicuramente quella di condividere la portata e il taglio delle attività formative, oltre ovviamente a condividere quali sono gli elementi centrali di questa tematica, tanto importante, basilare diremmo, nella gestione di progetto. A tale riguardo vi rimandiamo alla pagina del nostro master in Project Management, un percorso dal carattere estremamente pratico, come detto in precedenza, immediatamente spendibile nel mondo del lavoro. Potrete consultare tutte le specifiche di questo master al primo link che vedete nella grafica che stiamo proiettando in questo momento. Per tutti coloro i quali fossero poi interessati ad avere un confronto più approfondito con noi, il nostro consiglio è sempre quello di partecipare ad un appuntamento a cui teniamo davvero molto, i colloqui di orientamento, selezione, un appuntamento importante per il discente, per conoscere tutto quanto concerne i nostri percorsi di alta formazione, questo e gli altri master, che compongono la nostra offerta formativa sempre in movimento, ma anche appunto conoscere tutte le opportunità che abbiamo in mente per la loro spendibilità nel mondo del lavoro. Per prenotare un colloquio di orientamento selezione vi basterà utilizzare il secondo link che vediamo in questo momento proiettato, vi verranno incollati entrambi i link nella chat di questa piattaforma, anche perché non voglio più rubare del tempo al dottor Punzo, a cui cedo volentieri la parola. E come anticipava Marco, l'obiettivo di questo webinar è provare a mettere chiarezza per quanto concerne le varie etichette che oggi si sentono sempre di più nel mondo del project management, e in particolar modo con un riferimento agli approcci metodologici nell'ambito del project management. Questo perché? Perché oggi si sente sempre di più con maggior frequenza e maggiore insistenza parlare di approcci tradizionali al project management, approcci agile, approcci ibridi. Proviamo allora insieme a fare chiarezza su questi aspetti. Vi proietto le slide che abbiamo preparato per l'incontro. E partiamo da un elemento fondamentale, vale a dire che tutti i progetti generano sempre un cambiamento all'interno del contesto aziendale. Questo perché? Perché i progetti sono quell'elemento che permette di traghettare da una situazione attuale, esiste, che non risponde alle nostre aspettative verso una situazione prospettica, agognata, tubì, verso la quale vogliamo tendere. I progetti quindi sono quell'elemento che vanno a scardinare lo status quo all'interno dei contesti aziendali e generano valore per l'azienda traghettandola verso quella situazione auspicata, futura, oggetto di una vision aziendale. E infatti sappiamo che oggi i progetti sempre di più sono un elemento importantissimo per andare a implementare la strategia aziendale. Quindi i progetti sono un motore del cambiamento, servono a gestire la straordinarietà e tutti i progetti sono dotati di un ciclo di vita tecnico. Ciclo di vita tecnico che intendiamo? Intendiamo quelle attività tecniche che devono essere poste in essere per realizzare l'output deliverable di progetto, cioè quello che il cliente ci ha assegnato nei requisiti del prodotto che ci è stato commissionato. Ed è logico che questo ciclo di vita è fondamentale, non può non esserci, perché se non ci fosse un ciclo di vita del genere non riusciremmo a realizzare la deliverable. E questo ciclo di vita tecnico cambia in funzione del settore di riferimento. Questo perché? Perché è logico che come si costruisce un edificio differisce da come andiamo a sviluppare, ad esempio, un software, che differisce a sua volta come sviluppare un farmaco. Parallelamente al ciclo di vita tecnico, che come abbiamo detto non può non esserci, potrebbe esserci, o forse meglio dovrebbe esserci, un ciclo di vita gestionale. Il ciclo di vita gestionale è quel ciclo di vita il cui owner è il project manager e che si caratterizza per quell'approccio metodologico strutturato che permette di impostare correttamente un progetto attraverso un avvio, una pianificazione, un'esecuzione, un monitoraggio e controllo e una chiusura. Quindi un'impostazione sui cinque gruppi di processo che costellano il ciclo di vita gestionale. E il ciclo di vita gestionale, cioè quello proprio di project management, differentemente da quello tecnico, è uguale a tutti i progetti. Ovviamente uguale, ferme restando, le dovute contestualizzazioni, personalizzazioni. Ma l'impostazione, il framework di riferimento, è essenzialmente il riflesso dell'approccio metodologico che il project manager vuole utilizzare all'interno di quel progetto. Questo che vuol dire? Che, vedete questo qui sotto, è un ciclo di vita di un sistema, un ciclo di vita tecnico, suddiviso in fasi. E questo è il ciclo di vita, diciamo, preponderante in termini di valore per il progetto, perché è quello, come abbiamo detto, che tecnicamente permette di realizzare l'output deliverable del progetto. Però notate, parallelamente, c'è il ciclo di vita di project management, che non è svincolato da quello tecnico, non è avulso, ma viaggia in parallelo, dando tutta una serie di input che aiutano sicuramente a indirizzare, coordinare in modalità più strutturata il ciclo di vita tecnico, innalzando fortemente il livello di probabilità con la quale raggiungere il successo di un progetto. Notate, vi ho detto, innalzare il livello di probabilità. Non possiamo dare certezze, perché gestire un progetto non è una scienza esatta come la matematica, ma essenzialmente un'arte. L'arte, per l'appunto, di gestire l'incertezza, perché i progetti, come si evince etimologicamente dall'interno del termine progetto, guardano sempre avanti. E quindi, per gestire un progetto, è necessario saper strutturare, attraverso un approccio metodologico, che faccia leva su un set di conoscenze e capacità, un kit di strumenti e tecniche, come dicevamo, per aumentare la probabilità con la quale raggiungere il successo di un progetto. Certezze qui, purtroppo, non se ne possono dare, perché non esiste una ricetta magica, una formula di archimia manageriale, con la quale raggiungere il successo nei progetti. E un ciclo di vita del progetto è suddiviso tendenzialmente in fasi. Diciamo che alcuni approcci, anziché fasi, si parla di iterazioni. Ma la fase iterazione, che cos'è? È una serie di attività del progetto, collegate logicamente tra di loro, che permettono di finalizzare uno o più output deliverable del progetto. E quindi il ciclo di vita del progetto non è altro che l'insieme di fasi che un progetto attraversa dall'inizio alla sua fine. Qui vi ho riportato un esempio, una fase di feasibility, planning, design, construction, testing, handover. Ciascuna di queste fasi genererà un deliverable e diventano dei momenti decisionali go no go se procedere o meno. Questo approccio è chiamato anche face gate perché al termine di ogni fase c'è un gate, un cancello decisionale in funzione del quale appunto bisogna decidere se andare avanti oppure rivedere qualcosina. Quindi è necessario suddivisere un ciclo di vita del progetto in fasi o in altri approcci, iterazioni. Questo perché? Perché per gestire la complessità del progetto è necessario suddividerlo in porzioni più facilmente gestibili. E i cicli di vita del progetto noi li potremmo ordinare lungo un continuum in cui a un estremo abbiamo i cosiddetti approcci predittivi dall'altro estremo ci sono invece quelli adattivi. Iniziamo dall'approccio predittivo che vuol dire che in questi cicli di vita è necessario definire correttamente i requisiti in maniera dettagliata, analitica prima della messa in execution del progetto. Questo perché? Perché logicamente io li posso trovare di fronte a uno scenario prendiamo ad esempio un progetto di costruzione di un ponte in cui la messa in esecuzione può avvenire solo quando come dicevamo i requisiti sono analiticamente definiti. Non è che possiamo decidere a posteriori di spostare il pilone ad esempio di un ponte di qualche metro. Va tutto definito preventivamente. Infatti in questi cicli di vita si dice che c'è un approccio plan driven guidato proprio dalla planificazione in cui si esercita un forte effort iniziale sulla pianificazione di progetto a valle della quale ci sarà una execution un gruppo di processi di esecuzione. E in questi cicli di vita il deliverable output ha un valore solo ed esclusivamente al termine del progetto. Questo perché? Perché un ponte ritorniamo all'esempio che stiamo portando avanti costruita a metà non è utile per nessuno. Un ponte quando è che ha valore? Solo ed esclusivamente quando permette al progetto completato e quindi una volta collaudato di congiungere i due estremi. E in questi cicli di vita il coinvolgimento degli stakeholder è parziale è limitato solo a quei momenti decisionali a quelle milestone definite a contratto oppure gestionali apportate nella pianificazione da parte del project manager. All'altro estremo invece possiamo vedere i cicli di vita adattivi che differentemente da quelli predittivi non sono plan driven guidati dalla pianificazione bensì change driven. Perché? Perché in questi progetti c'è consapevolezza che i requisiti in corso di progetto inevitabilmente cambieranno. Quindi i requisiti saranno definiti necessariamente in corso d'opera. E vi faccio l'esempio dello sviluppo di un sito web che è un progetto per il quale anche diciamo last minute o last second prima di andare on air è possibile apportare ad esempio qualche modifica non so cromatica senza impattare sugli esiti del progetto. Gli approcci adattivi quindi sono change driven guidati dal cambiamento e questo che vuol dire quindi che differentemente da quelli predittivi plan driven il cliente e gli stakeholder in generale non è che possono essere coinvolti solo in momenti decisionali topici milestone definite contrattualmente o dal project manager qui ci deve essere un coinvolgimento continuo infatti negli approcci adattivi il cliente è parte integrante del team di progetto e negli approcci adattivi differentemente da quelli predittivi i deliverable anche intermedi hanno un valore nell'esempio che stiamo facendo del sito web avere un wireframe con un eventuale look and feel genera già valore lato cliente questi sono gli approcci abbiamo detto i cicli di vita del progetto e tra questi due estremi abbiamo un nell'intermezzo delle situazioni ibride cosa succede però? che dietro questi cicli di vita del progetto ci sono dei cicli di vita gestionali ebbene dietro quello predittivo c'è un approccio tradizionale al project management dietro quello adattivo c'è un approccio agile al project management e nelle situazioni intermedie quelle ibride c'è un approccio che oggi definiamo di hybrid project management quindi questo che vuol dire che non c'è un approccio metodologico gestionale vincente a priori che si adatta e calza per tutti i progetti dipende sempre dal contesto e quindi uno di quei falsi miti per i quali si dice che l'agile project management oggi è applicabile a tutti i progetti va ben pesata come espressione perché l'agile project management trova terreno fertile in quegli approcci adattivi in quei contesti che oggi si vuole etichettare con l'acronimo VUCA cioè volatili incerti uncertainty complessi e ambigui laddove comunque l'approccio tradizionale al project management risulta ancora vincente in contesti predittivi ecco che quindi la capacità del bravo project manager sta nel saper contestualizzare personalizzare ed effettuare su ogni progetto con un occhio all'esterno e un occhio all'interno un adeguato tailoring cioè un lavoro sartoriale su misura da far calzare a pennello scusate un po' l'espressione colorita sul progetto ecco che quindi andiamo a vedere anche di andare a sradicare un altro falso mito il primo che abbiamo visto che è già il project management è la panacea di tutti i mali nella gestione dei progetti no adatto approcci adattivi con testi VUCA altro falso mito che nella già il project management non si pianifica no non è vero vedete il primo disegno in alto riporta i cinque gruppi di processo tipici del ciclo di vita gestionale l'avvio la pianificazione l'esecuzione monitoraggio e controllo e chiusura e negli approcci predittivi tradizionali qualcuno li chiama waterfall come il retaggio dal mondo dello sviluppo software notate la gobba verde del planning è fortissima in termini di effort come il livello di attività antecedentemente come abbiamo detto la messa in esecuzione del progetto mentre guardate in agile non è che non ci sono gobbe verdi ci sono e come però sono distribuite su tutto il progetto la pianificazione è sempre essenziale non dobbiamo confondere la mappa con il viaggio certo non è una pianificazione analitica e dettagliata in agile come negli approcci tradizionali è una pianificazione di alto livello ma perché? perché c'è la consapevolezza che è inutile andare a investire tempo risorse in qualcosa che poi si modificherà inevitabilmente in corso d'opera d'altra parte se si investisse più di tanto in pianificazione sarebbe uno spreco spreco che la logica lean la filosofia lean da cui viene tra virgolette emanata anche poi la filosofia agile sappiamo che combatte gli sprechi e anche quelli di tempo di risorse e di energie cognitive qui vi ho rappresentato il famoso modello della complessità di Staci in cui abbiamo sull'asse delle ascisse il livello di realizzazione tecnologica suddiviso in a seconda del livello di conoscenza noto ignoto mentre sull'asse delle ordinate abbiamo i requisiti noti ignoti laddove abbiamo un contesto di realizzazione tecnologica noto e dei requisiti stabili noti è logico poi abbiamo un contesto semplice dove trova terreno fertile l'applicazione di un approccio predittivo e quindi delle logiche tradizionali di project management laddove invece inizia a serpeggiare un contesto VUCA quindi un contesto sempre più complicato o addirittura complesso quindi man mano che il livello di realizzazione tecnologica è sempre più ignota e i requisiti diventano sempre più ignoti invece è il contesto ideale per applicare delle logiche di agile project management forse in quelli complicati qui differentemente da quanto rappresentato nell'immagine potremmo iniziare a rappresentare un contesto diciamo ibrido il complesso sicuramente si presta bene all'applicazione di logiche di agile project management è logico che nel quadrante in alto a destra dove il livello di realizzazione tecnologica è totalmente sconosciuta i requisiti sono totalmente ignoti siamo nel mondo del caos e forse no meglio sicuramente qui non è il caso di avviare un progetto e andiamo a completare questa breve rappresentazione per poi lasciare spazio alle vostre domande sui cicli di vita ibridi che abbiamo visto sono nell'intermezzo tra i due estremi predittivo e adattivo e quando c'è una combinazione di questi due approcci predittivi e adattivi si tende a parlare di approccio ibrido e qui sono rappresentati una serie di scenari ibridi in cui c'è una contaminazione dei due approcci ad esempio nel primo ci potrebbe essere un progetto cutting edge che necessita una forte sperimentazione e quindi un approccio agile al project management a valle del quale ad esempio potrebbe eseguire la necessaria formazione sul territorio nazionale del personale oppure replicare su scala produttiva quanto elaborato precedentemente e questo sicuramente questa seconda parte si presta meglio a un approccio predittivo oppure uno scenario del genere come il secondo rappresentato nella slide in cui vedete c'è una costante contaminazione tra approcci predittivi e agile che vengono utilizzati contemporaneamente e questo è il classico scenario di quelle aziende che hanno storicamente lavorato con un approccio predittivo ma che vogliono intraprendere un programma di transizione verso l'agile e quindi nei progetti si iniziano a applicare alcuni strumenti dell'agile quindi tipo gli stand up meeting si inizia a parlare di user story un iteration review e così via gli ultimi due scenari sono quelli in cui nel terzo precisamente dei quattro abbiamo un approccio un progetto gestito un approccio totalmente predittivo però guardate c'è una piccola componente gestita con logica agile questo perché perché ad esempio anche in un progetto di edilizia se io devo utilizzare ad esempio un materiale nuovo per il tetto per quel materiale devo necessariamente effettuare delle sperimentazioni allora lì si presta bene una componente agile in un intero progetto predittivo e guardare l'ultimo scenario che ribalta un po' la situazione precedente in cui un progetto è gestito con logiche puramente agile però ha una piccola componente predittiva questo ad esempio se io lavoro con uno sviluppo software con logiche agile ma ho esternalizzato un work package a un fornitore che lavora in logiche predittive l'integrazione avverrà con queste suddette logiche allora un ultimo focus qua una parentesi noi abbiamo parlato del ciclo di vita del progetto predittivi adattivi ibridi con dietro delle logiche dei cicli di vita gestionali tradizionali in corrispondenza del predittivo agile in corrispondenza dell'adattivo hybrid project management in corrispondenza dell'ibrido ovviamente poi abbiamo un ciclo di vita del prodotto un ciclo di vita del prodotto che vedete rappresentata in questa immagine che ho preso dalla settima edizione del PMBOK project management body of knowledge che rappresenta sull'asse delle ascisse la variabile tempo e sull'asse delle ordinate le vendite e generalmente un ciclo di vita standard del prodotto a questa forma di curva S in cui c'è una prima fase che è finalizzata a far conoscere il prodotto quindi anche spingere la prova poi in una fase di crescita dove si innestano n progettualità per ad esempio aumentare delle feature all'interno del prodotto qui l'obiettivo in questa fase del ciclo di vita è sicuramente quello di aumentare il più possibile le vendite poi c'è una fase diciamo di maturità questa fase a volte è divisa in due sottofasi maturità crescente vedete in cui le vendite crescono ancora e poi di stable maturity in cui invece qui abbiamo la finalità di salvaguardare il più possibile la quota di mercato aumentando il profitto e infine c'è una fase ultima di estromissione del mercato a dire il vero qui ci potrebbe essere un rigurgito di orgoglio e una fase di rivitalizzazione quello che ci tengo a farvi notare che lungo il manager ci possono essere nei progetti dicevamo prima nella fase iniziale un lancio un lancio sgruppo nuovo prodotto poi un lancio l'integrazione delle feature delle review l'ultimo progetto purtroppo è quello dell'estromissione dal portafoglio prodotti e questi progetti possono essere gestiti all'interno di un programma e assicurati in una governance del portfolio di questi progetti appannaggio come dicevamo del product manager che gestisce il ciclo di vita del prodotto spero di essere stato chiaro di aver chiarito la differenza tra cicli di vita tecnico del progetto cicli di vita gestionali nelle loro sfaccettature tecnico predittivo ibrido adattivo gestionale traditional hybrid and agile project management e diciamo completato con un focus sul ciclo di vita del prodotto lascio spazio a vostre domande dubbi perplessità non ci sono domande vi ringrazio della partecipazione e per qualsiasi dubbio e perplessità come vi diceva Marco avete i canali di contatto buon proseguimento e buona serata grazie